credo non mi sia mai capitato di parlare di it qui sul canale youtube allora it di steven king parliamo proprio del romanzo è il punto di riferimento di chiunque decida di trattare l'argomento horror sui social su youtube su un blog quindi è inevitabile prima o poi tirarlo fuori parlarne anzi spesso è uno dei primi argomenti che gli aspiranti youtuber analizzano proprio per attirare visite io non l'ho mai fatto perché ho preferito andare su cose un po più di nicchia anche se di king ho parlato spesso ho detto più volte che il mio romanzo preferito è notti di sale me lo ribadisco dovrebbe uscire a breve la nuova trasposizione direttamente in streaming e vedremo com'è ma it sicuramente è un ottimo romanzo non è nella mia top trailer del re l'ho letto suo tempo mi è piaciuto molto mi è piaciuta la prima serie miniserie tv tratta del romanzo ho apprezzato il primo dei due film usciti negli anni recenti secondo non mi è piaciuto affatto ma comunque concentriamoci ripeto sul libro il libro credo che molti di noi della mia età più o meno della mia generazione nati tra i 70 e gli 80 abbiano affrontato it da ragazzini così come lo sono i pertenti i protagonisti del romanzo quindi lo hanno approcciato magari di nascosto dei genitori non lo so dipende un po da che tipo di genitori avevate tra i 14 18 anni forse anche prima 13 18 anni l'ho approcciato credo sui 14 proprio 14 15 anni quindi è stata una lettura intensa innanzitutto faccio notare una cosa ai tempi io mi scofanavo un librozzo così di mille passa pagine nel giro di poche settimane adesso paradossalmente faccio fatica a leggere romanzi più brevi in tempo in altrettanto tempo quindi prediligo sempre letture di sulle 150 200 pagine e non riesco quasi più a leggere romanzi così corposi ma non perché non sono belli ma proprio perché ci metto davvero davvero tanto è cambiato l'approccio della letto alla lettura non solo da parte mia credo ma da parte di molti comunque it it è stata una lettura giovanile in i tempi in cui quando si parlava di horror letterario praticamente in italia giravano solo king kunz e pochi altri insomma due o tre nomi e il vecchio lovecraft che però magari non tutti hanno scoperto da giovani poi it è una lettura che colpisce il ragazzino proprio perché i protagonisti sono dei ragazzini almeno nella prima parte del romanzo e poi perché parla di paure legate all'essere ragazzini it tutto sommato inteso come creatura è una creatura che va a colpire proprio quei quei ragazzi che sono un po dimenticati un po trascurati dalla famiglia per varie ragioni non necessariamente gravissime ma proprio perché i tempi moderni spingono il genitore a preoccuparsi di altre cose e a bevare magari distrattamente ai bisogni secondari dei figli quindi bisogni primari sfamarli ok un tetto sopra la testa e ci sta però ascoltarli vedere le loro paure capire se sono bullizzati capire se hanno amici se sono innamorati è una cosa che spesso già ai tempi sfuggiva ai genitori e in casi più gravi invece parliamo proprio di famiglie problematiche con genitori debiti all'alcol genitori violenti e cose altrettanto brutte it si sviluppa lì it la creatura penny wise nasce in questo disagio nasce a derri e lì resta e prolifera prolifera su appunto la gli adulti distratti gli adulti imbruttiti della vita e se la prende però coi loro figli che sono gli unici che riescono a vederlo perché hanno ancora una parte della mente che riesce a percepire il perturbante il non del tutto reale dove il concetto di realtà è volutamente spostato da king la realtà è anche composta dai mostri che lui narra invece la realtà per come la concepiamo noi è materiale solida e priva di qualsiasi cosa che sia mistica orrorifica tra negli orrori veri della vita comune e esoterica it è anche un una parabola se vogliamo sull'abbandono del luogo nativo per cercare di fuggire proprio da questo condizionamento infatti i giovani per i perdenti che se ne vanno da derri riescono in qualche modo a rifarsi una vita e per farlo però il loro cervello separa tutto ciò che hanno vissuto a derri con penny wise per proteggerli ma quando devono tornare a derri il la memoria ritorna a loro a sua volta a perseguitarli e li spinge per chi può farlo psicologicamente in grado di superare subire questa prova devono appunto riacquisire ciò che hanno vissuto e combattere la loro paura più grande che è stata appunto penny wise la rappresentazione del male del disagio se vogliamo la rappresentazione di tutto ciò che fa paura e che non sempre spesso sì ma non sempre è sufficiente non credere in lui per poter evitare che faccia danni perché penny wise è anche capace di prendere corpo e quindi di farti male sul serio come vedremo oltre che a danneggiare psicologicamente i protagonisti inoltre it se vogliamo tirar fuori l'insegnamento più grande oltre a questi aspetti che oserei dire psicologici ti fa vedere che per uscire da queste situazioni la coesione di gruppo è l'arma principale e questo viene ribadito più volte appunto il club dei perdenti ovvero anche ragazzini un po male inarnese come famiglia come fisicità c'è chi ha l'asma c'è chi ha grasso insomma non sono i classici teenager da college che fanno sport sono un gruppo di ragazzini appunto male inarnese che però facendo gruppo riescono a fronteggiare questo male più grande molto più grande di loro ma molto più grande di chiunque di chiunque di noi e lo fanno laddove gli adulti invece non sono non sono non sono capace di combattere penny wise ma spesso non non lo vedono o fingono di non vederlo di non riconoscerlo quindi il grande insegnamento di it e credo che sia soprattutto per questo che molti di noi che l'hanno letto a 14 15 anni l'hanno apprezzato è perché ti insegna il valore di fare gruppo contro il male ma soprattutto anche contro la solitudine perché i protagonisti di it sono inizialmente dei ragazzini soli o comunque tendenzialmente soli e quanti di noi a quell'età magari non si sentivano proprio a loro agio avevano gli amici ma magari erano amici con interessi diversi da loro oppure erano già gruppetti di amici con interessi diversi dal gruppo per esempio quando io andavo a scuola qui parliamo dei primi anni dei superiori l'interesse principale di molti miei compagni erano lo sport il calcio o il motorino poi sono stato fortunato perché in realtà ho trovato un gruppo coeso di coetani con cui condividere le passioni per giochi di ruolo per i film horror però vedevo in altre sezioni della scuola che frequentavo che non era così c'erano altri miei coetani non della mia classe che avevano le mie le nostre passioni ma non avevano all'interno di quel nucleo nessuno con cui condividerle proprio perché gli interessi generali erano altri e quindi tanti di queste persone si sono identificate anche nella filosofia che king ha sottolineato nel suo romanzo più famoso in assoluto credo che si credo che it possa venire considerato il suo romanzo più famoso senza senza dubbio forse dopo non so se viene l'ombra dello scorpione o misery però con largo distacco correggetemi se sbaglio quindi it è una lettura che è stata iniziatica se l'abbiamo fatta a quella all'età in cui l'ho fatta io se l'avete fatta all'età in cui l'ho fatta io ora non riuscirei a rileggerlo vi dico la verità proprio perché ho cambiato il mio approccio alla lettura proprio perché col tempo ho maturato il fatto che king è un po troppo prolisso per amore di dio it è bello credo che sia bello sarebbe bello anche rileggerlo ora ma andrebbe sforbiciato ma così come ancora di più andrebbe sforbiciata l'ombra dello scorpione quindi non lo rileggerò non lo rileggerò mai credo rivedrò il film rivedrò la serie ma il l'ormanzo resta lì resta lì però ecco una cosa che denota il fatto che io l'ho apprezzato proprio tanto è che me lo ricordo bene forse me lo ricordo bene anche perché ho visto punto più volte le trasposizioni ma non è detto di solito tendo dimenticare molto rapidamente i romanzi che non mi hanno lasciato nulla o che mi hanno lasciato poco it invece è tutto qua e anche un po qua quindi direi che il signor king ha fatto il suo sporco lavoro con intere generazioni di ragazzini fatemi sapere se l'avete letto io ho voluto parlarne soprattutto perché siamo nella spooky season tutti gli anni cerco di esaminare dei film a tematica horror ma differenti poi ce ne sono due o tre che ricorrono ogni halloween sui miei sui miei canali e li vedrete anche quest'anno perché rappresentano secondo me la natura vera della festa di halloween intesa come festa della cultura pop attenzione a me del della tradizione storico pagana di halloween che ben conosco interessa poco cioè a me interessa proprio l'impatto che ha avuto halloween sulla cultura pop e la diffusione della cultura horror non più ghettizzata demonizzata ma trasformata in una festa in una fiaba oscura ma tutto sommato allegra ok quindi mi sembrava il caso però quest'anno di parlare di un caposaldo comunque questa cultura horror che che meritava un cenno anche qui sul mio canale e così io così ho fatto va bene io ora vi saluto vi ripeto fatemi sapere cosa ne pensate di it e quali sono i vostri romanzi preferiti di king ne avevamo parlato tempo addietro però molto molti 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 mesi fa forse anni fa e quindi è il tempo di chiedere di farvi di nuovo questa domanda visto che nel mente gli iscritti sono diventati tanti per il resto qui sotto trovate i nostri riferimenti social telegram tutto quello che può servirvi e poi come al solito un like se ce lo volete dare per noi sarà sempre e soltanto preziosissimo telegram tutto quello che vuoi la mia vita è 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 la mia vita che non è la mia vita 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 è